Buongiorno, benvenuti oggi è mercoledì 26 aprile, giuro che fra poco mi farò la barba e che questa sera quando saremo in diretta su Matrix, parleremo ovviamente di Alitalia sarò un po' più in ordine, però ormai siete abituati a vedermi in questa maniera non vi scandalizzeremo. Allora, qual è il primo tema della giornata? I temi della giornata sono due che sono altrettanto scontati e devo dire che sono talmente retorici che mi viene la voglia di dire che palle e che sono la festa della celebrazione, la celebrazione del 25 aprile cioè la festa della liberazione che come tutti gli anni vede dei ridicoli partigiani ridicoli perché non sono dei partigiani, non fosse altro per l'età magrafica che litigano contro la brigata ebraica e che ne approfittano di venire in piazza poi ne parleremo soltanto per Farcasini e poi come ciclicamente viene il caso Alitalia non so quale delle cose sia stata più scontata, però di Alitalia dobbiamo parlare perché a questo punto la questione all'Italia si sta incancrenendo diciamo che facciamo una sintesi di quello che c'è sui giornali intanto Calenda, il ministro dello sviluppo economico, l'uomo che dovrà decidere come gestire il casino combinato dai manager all'Italia e ratificato dai dipendenti all'Italia votando no al referendum, Calenda ha detto chiaramente in due interviste uno al messaggero e l'altro al Corriere della Sera che gli aiuti di Stato è finita che per prima possibile si dovrà nominare un commissario non so se sia Gubitosi o sia Laghi, comunque due persone molto abili questi due commissari dovranno cercare di liquidare il prima possibile l'azienda sei mesi di tempo al massimo, lo dice in maniera netta niente nazionalizzazione, niente più aiuti pubblici solo lo stretto necessario per chiudere questa vicenda una volta per tutte bravo, Calenda, alcuni giornali oggi un tipo Repubblica ma non solo dicono che Renzi sarebbe contrario a questa linea ultraliberista di Calenda segnalo a questi giornali che invece Del Rio che certo non è un ultraliberista sulla stampa dice le cose più o meno simili, forse ancora più dure di Calenda cioè il ministro Del Rio dice non nazionalizzeremo assolutamente l'Italia prenderemo il più tempo possibile a quelli che lo criticano per il fatto che le low cost hanno degli strumenti avvantaggiati per andare in alcuni aeroporti beh Calenda, Del Rio risponde un po' anche a quello che abbiamo detto noi oggi e cioè dice Del Rio scusate lì ci sono dei bandi europei per avere delle agevolazioni perché all'Italia non vi partecipa e dice ancora Del Rio scusatemi voi dite che Ryanair e le low cost non sono così presenti in Germania e in Francia merito di Air France e Lufthansa boh io questo non so se sia vero perché in realtà negli aeroporti principali di queste nazioni non vedo mai Ryanair quindi forse qualche cosa di diverso c'è detto questo la cosa è chiara il governo oggi tira la barra dritta e non vuole dare più una lira ad Alitalia e lo capisco Alessina e Giovazzi dicono una cosa che poi in realtà anche io faccio un pezzo sul giornale ma come sapete mi tiro sempre un passo indietro quando proprio non sia strettamente necessario perché più o meno le cose che dico io anche se a Spizzi che o Bocconi le trovate da altre parti Alessina e Giovazzi sul Corriere della Sera non come sempre devono criticare l'unico che criticano è Berlusconi perché Alessina e Giovazzi così si mettono la foglia di fico di essere fichetti se criticano Berlusconi i loro pezzi sono più fichetti io faccio esattamente il contrario siccome non critico Berlusconi voglio essere sempre il meno fichetto e il meno accettabile possibile Alessina e Giovazzi dicono una cosa però sacrosanta e dicono ma perché i lavoratori devono sempre partecipare a questi referendum le aziende perché non possono considerare questi referendum solo consultivi bene molto più interessante invece Roberto Perotti sul Corriere sulla Repubblica che dice non c'è nessun motivo economico per tenere in vita l'Italia anche Dario Di Vico su Corriere della Sera fa capire che le gare all'Italia al turismo in Italia non ha nessun senso molto bello come sempre pezzo di Fabio Pavesi sul Sole 24 Ore che fa i calcoli di quanto abbiamo prestato all'Italia e quanto noi abbiamo dato all'Italia c'è uno studio di Mediobanca che tutti citano lo cito anch'io sul giornale che dice che in 40 anni sono stati dati 7,4 miliardi ma la cosa più incredibile e forse più noiosa la ricorda Fabio Pavesi quando voi comprate un miglietto pagate 3 euro di sovratassa sapete per che cosa? per un fondo speciale per le casse integrazione di piloti assistenti di volo e dipendenti all'Italia che hanno una cassa integrazione che dura 7 anni in quale paese, in quale azienda privata in quale situazione strategica uno ha tutele come quelle che hanno i dipendenti ex all'Italia e i nuovi dipendenti all'Italia cioè quelli che hanno votato no non avranno quelle tutele ne avranno due anni mentre quelli del 2008 ne hanno 7 si tratta veramente di una situazione che io capisco perché la gente è così arrabbiata anche forse oltre il dovuto nei confronti dell'Italia nel frattempo nel retroscena di cui si parla oggi molti ai piloti, ostesi dicono ma come hanno dato 20 miliardi alle banche perché non danno un po' di soldi dall'Italia a parte il fatto che alle banche questi soldi sono stati dati in termini di garanzia e si spera che questi soldi ritornano indietro e le banche hanno dato dimostrazione in tutta Europa di saper restituire i soldi ma detto questo le banche rappresentano veramente un elemento fondamentale per la garanzia che il paese va davanti non sto difendendo le banche che hanno avuto un management di merda ma sto difendendo l'assurdità del paragone e lo capisci oggi andando a guardare quello che è successo proprio nell'Italia chi è che ha salvato l'Italia oltre al pubblico negli ultimi anni? due banche Unicredito e Intesa che hanno continuato a investire soldi sapete quanto hanno di crediti Unicredito e Intesa nei confronti dell'Italia? 1,6 miliardi allora io mi chiedo se le banche hanno questi crediti che saranno in gran parte inesigibili nei confronti dell'Italia li hanno perché all'Italia? perché hanno fatto sistema perché hanno pensato di aiutare l'Italia hanno sbagliato quindi la logica è vogliamo privatizzare tutto? vogliamo far sì che non ci sia una logica di sistema? le banche non avrebbero dovuto prestare i soldi all'Italia e l'Italia sarebbe fallita anni fa forse questo sarebbe stato meglio comunque 1,6 miliardi di euro che le banche hanno prestato a questa baracca di Alitalia che sarà difficile che le restituisca su Alitalia la cosa più bella forse oggi la trovo su Italia Oggi Italia Oggi la scrive Cacopardo e dice qual è stato l'ultimo amministratore delegato ad aver fatto utili in Alitalia? 221 miliardi di utile dopo le imposte le ha fatte nel 1988 un signore che si chiamava Nordio va bene? Nordio aveva fatto 221 miliardi di utile e all'Italia era meglio di Lufthansa e media di Air France poi hai cambiato il mondo le liberalizzazioni quello che volete ma chi fece fuori Nordio e mise a posto suo due persone che di trasporto aereo non ne capivano nulla? Romano Prodi all'epoca alla guida dell'Iri ovviamente è molto divertente il pezzo di Cacopardo in cui dice che probabilmente lì c'era anche lo zampino di Demita che si era seccato non so per l'acquisto di alcuni aerei fatti male questo sono gossip e non so se siano vero bello il pezzo d'Italia oggi seconda questione ve l'ho detta la liberazione oggi ne parlano tutti i giornali per gli scontri che ci sono stati io trovo che ci si debba liberare soltanto da Lampi Lampi è forse la cosa più inutile che ci sia dopo i referendum aziendali no, molto più inutile dei referendum aziendali il pezzo più bello oggi lo scrive Vittorio Feltri che racconta effettivamente che cos'era la resistenza un movimento di elite che riguardava poche persone ininfluente ai fini della guerra così dice Feltri mi diverte molto con la sua arma migliore che è la penna che non è spuntata e il vero tema è che erano tutti fascisti pochi erano resistenti e dopo la caduta di Mussolini tutti diventarono antifascisti e improvvisamente resistenti dopo 72 anni ancora stiamo a parlare di questa resistenza che ha avuto un ruolo unitario anche se non così importante e che oggi veramente mi sembrerebbe sepolta e lo dico con senza nessun come posso dire posso dirlo posso dirlo me ne fotto io me ne fotto di dire una cosa di questo tipo vaccini il Movimento 5 Stelle vuole avere una posizione sui vaccini trova un immunologo molto serio il quale dice però attenti Movimento 5 Stelle lo leggo sul Corriere della Sera io vi faccio un paper una ricerca ma se voi smentite tutte le minchiate che avete detto fino ad ora sui vaccini a proposito di Movimento 5 Stelle Di Maio ieri ha fatto quella grande polemica con Saviano sulla questione dei taxi che andrebbero a prendere gli emigranti in mare Saviano gli ha detto ma dove sta scritto questa cosa di taxi esagerata eccetera mi duole dire che Di Maio su questo ha ragione ieri Frontex ha detto che i trafficanti sfruttano l'obbligo di salvargli la vita sostanzialmente è un modo come un altro per dire taxi cioè i trafficanti di uomini sanno perfettamente che devono essere salvati quelli che hanno loro a bordo dei loro commoni tant'è che i loro commoni li riempiono di benzina quel poco sufficiente per farli arrivare alle navi ONG che come dei taxi li riportano sempre e solo in Italia c'era un'ultima cosa di cui volevo parlare sì l'ultima cosa riguarda è una notiziona la trovate in breve sul Corriere della Sera ma la trovate sui giornali internazionali stupendo la signora che guida Yahoo di merda scusate la parolaccia ma Yahoo è uno dei peggiori se siete incastrati su Yahoo ve lo dovete tenere ma è un disastro come email e come portale tant'è che ha perso un sacco di soldi è stata venduta a Verizon e tra l'altro mentre a voi vi chiedono di fare la password con l'alto e il basso cambiarla la x il puntino la roba incredibile eccetera loro sono stati hackerati senza dirlo in tempo ma dopo anni hanno detto che erano stati hackerati e tutti i vostri dati sono stati presi e venduti tutti i vostri dati che avete le mail Yahoo beh insomma questa signora che ha gestito questa roba qua e che ha anche detto il ritardo pure io c'ho Yahoo purtroppo ha detto il ritardo degli hackeraggi e tutte queste compagnie cantante qua questa manager della Silicon Valley la grandissima Silicon Valley donna amica di Obama perfetta politicamente corretta tutto quanto sapete quanto c'ha di stipendio quest'anno 168 milioni di dollari ho scritto un libro che si chiama La disuguaglianza fa bene ma la disuguaglianza fa bene quando è figlia di un merito non quando è figlia soltanto di un privilegio la signora che è oggi amministratrice delegata di Yahoo è un furto che prenda 168 milioni di euro io voglio che la gente diventi ricca mi piacciono i Lamborghini le Ferrari le Porsche il caviale l'Aragosta quello che volete voi ma meritati non se tu gestisci di merda un'azienda come Yahoo ti fai rubare i tuoi dati dei privati non lo denunci e vieni scoperta dopo mesi vendila dov'è dov'è il merito e la disuguaglianza che io in tutti i modi preferisco e voglio e anelo quando ci si trova in queste condizioni da nessuna parte soltanto in quel sistema corrotto mentalmente che è la Silicon Valley perché una incapace che è diventata amministratore delegato di Yahoo può portarsi a casa 168 milioni di dollari mi fa orrore un saluto noi ci vediamo questa sera a Matrix mi raccomando fatevi un riposino se siete stanchi e poi a Matrix alle 23.30 ciao